Una buona serata e benvenuti all'appuntamento con Incontri. Proseguo il nostro giro di consultazioni, chiamiamole così, anche se è ancora presto per definirle tali, con le forze politiche ortane. Con me questa sera Sergio Pecerolo di Idee Chiare, ho usato il termine consultazioni, non so se è un termine appropriato, vi consultate tra di voi, qui con me è più una chiacchierata un po' informativa per i cittadini, questo era il termine più corretto da usare. Comunque benvenuto, grazie di essere qui con noi. Idee Chiare si ripresenta come forza politica indipendente dopo aver vissuto l'esperienza del quadrifoglio e dopo diversi anni c'era un progetto all'origine di questa associazione, progetto che è stato ripreso e che cosa c'è di nuovo in questo progetto? Sì, allora anzitutto buonasera a tutti, a tutti i telespettatori e grazie per l'opportunità. Idee Chiare si ripresenta, nasce Idee Chiare nel 1999, quando un gruppo di persone decisero di dare vita a questo progetto civico. Non tutti sanno, mi sembra giusto dirlo, che io all'epoca avevo poco più di 20 anni e la prima volta che mi affacciavo alla scena politica la feci proprio con Idee Chiare, quindi partecipare alle riunioni di Idee Chiare. Dopo quelle elezioni mi avvicinai con estrema soddisfazione a questo movimento e poi feci una scelta diversa, era quella di entrare in rifondazione comunista. Detto questo poi tutti sanno come andare a finire quel progetto, Idee Chiare è stata all'opposizione del sindaco Pattumelli dell'epoca per ben 5 anni e all'interno di questa posizione è nato il quadrifoglio, progetto civico molto importante formato appunto da Idee Chiare, la fondazione comunista, la sappiamo tutti. Oggi cosa succede? Oggi Idee Chiare ha la luce del fatto che in modo molto onesto il quadrifoglio non esiste più, il quadrifoglio è decaduto con l'ultima legislatura, Idee Chiare ha deciso di ripresentarsi ai cittadini con l'umiltà con cui si era presentata nel 99, con una serie di persone che facevano parte già nel 99 di questo progetto e con nuovi personaggi che oggi ne fanno parte. Idee Chiare vuole in questa nuova campagna elettorale portare l'esperienza che ha accumulato in questi 15 anni con delle novità che vengono proprio da personaggi nuovi che si sono affacciati e avvicinati a questo progetto. Noi non rinieghiamo assolutamente quello che ha fatto il quadrifoglio, anzi andiamo orgogliosi di quello che è stato il quadrifoglio, però non possiamo più né piangere rispetto a quello che è successo e lo guardiamo neanche con rammarico ma con la voglia di andare oltre a quel progetto e di iniziare da capo un percorso che sicuramente fa sì che delle persone sono un'esperienza. Quindi praticamente un po' Idee Chiare resetta tutto quello che è stato, rincomincia da zero, rincomincia singolarmente come associazione. Esatto, rincomincia da zero, singolarmente come associazione unica, portandosi Chiare però quel bagaglio di cultura, quel bagaglio di esperienza, quel bagaglio di idee che hanno fatto sì che per 15 anni Orte è stato governato a mio avviso in modo entusiasmante. Ecco, queste settimane passate si sono avvicendate su questa poltrona gli altri personaggi della vita politica locale e ognuno ha espresso un po' il suo pensiero su cosa occorra fare per dare impulso a una nuova crescita della città. Che cosa mette in piatto Idee Chiare? Che cosa propone ai cittadini? Anche se magari adesso è un po' prenavato a dirlo perché si sta costruendo il programma, si stanno facendo le cose, però insomma delle idee già, come dite voi, Chiare ce le avrete su cosa fare. Sì, noi portiamo, cosa mettiamo in atto? Mettiamo in atto anzitutto il continuamento di quella sorta di innovamento che abbiamo portato a Orte come quadrifoglio, portiamo avanti l'idea che per fare le cose bisogna essere presenti sul territorio, bisogna riuscire a parlare con le persone, bisogna essere molto concreti. Non ci è mai piaciuto e non ci piace tuttora fare false promesse, non abbiamo bisogno di slogan, non li abbiamo mai fatti, non li faremo mai, chi ci conosce sa che siamo delle persone molto molto ben concrete, molto ben definite che vanno subito al punto della questione. E quindi a risposta alla domanda cosa mettiamo in atto? Mettiamo in atto il proseguimento di idee e di un programma che purtroppo non è stato possibile portare avanti per l'ultima esperienza comunale, quindi ripartendo da lì e portando avanti tutto quello che erano le nostre idee fin dall'inizio. Dobbiamo finire la casa famiglia, dobbiamo finire la struttura quella che sta a Pedignano dell'SA, dobbiamo finire di lavorare sulla questione delle scuole ad Orte, dobbiamo finire di parlare di acqua e poi un tema molto importante con il quale vogliamo approcciarci con molta, come dire, umiltà ma concretezza che è il discorso della sicurezza, che oggi tutti parlano di sicurezza e noi non è in questa fase ma abbiamo già dei progetti molto molto interessanti che poi porteremo alla conoscenza dei cittadini per un discorso di sicurezza del paese per fare sì che Orte diventi veramente un paese molto più vivibile di quello che è oggi e sicuramente lavorare dal punto di vista ambientale per renderlo ancora più vivibile. Ecco, hai parlato di finire, 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 quindi un impegno più proteso verso il consolidamento di quello che c'è facendo ritardare una progettualità oppure sono cose che vanno di pari passo? No, sono cose che vanno di pari passo, cioè noi non possiamo dimenticare che abbiamo delle opere all'interno del nostro territorio comunale che non sono ancora terminate, noi dobbiamo anzitutto essere coerenti con noi stessi e dire quelle opere che noi abbiamo voluto con forza le vogliamo oggi portare a termine. Parallelemente a quelle opere abbiamo una marea di idee di portare all'interno della cittadinanza, di portarci al confronto con i cittadini per vedere quanti e quali di quelle possono andare a lavorare in modo, come dire, programmatico e in maniera a speculare insieme a quelle già esistenti. Ecco, ho detto poco fa, riprendo un po' le due frasi, ti ho ascoltato attentamente, ci impegneremo con dei progetti, dei progetti però che devono essere sempre sostenuti da un impegno finanziario, sappiamo benissimo che le nuove leggi dello Stato non consentono più quella buona dose di liquidità, di trasferimenti, insomma bisogna attingere risorse e poi andare a penalizzare i cittadini con delle nuove tasse sarebbe sicuramente non opportuno, credo io. Certo, noi… Ecco, come si può… come si inserisce Degliere in questo discorso? Guarda, questo secondo me Gianni è stato un progetto che noi già abbiamo fatto, perché se io vado e chiudiamo un attimo gli occhi tutti quanti e pensiamo a come era orta dieci anni fa e come oggi, vediamo che ci sono stati sul territorio una serie di cambiamenti importantissimi in periodi difficili economicamente, dove era difficile raggiungere determinati obiettivi o arrivare a prendere determinati finanziamenti, noi ci siamo riusciti, quindi con la stessa concretezza non andiamo lì, cioè noi pensiamo che un progetto valido, un progetto serio possa avere la strada per arrivare a finanziamento valido e serio, noi pensiamo che una struttura comunale che ti sostiene, che porta avanti i tuoi progetti, possa veramente arrivare a prendere dei progetti seri, cioè oggi bisogna andare a scavare un po' di più all'interno dei vari finanziamenti che arrivano, ma se uno riesce a scavare con intelligenza, con efficacia, con progettualità, sicuramente si può ottenere, cioè nessuno poteva pensare che orte si finisse da zona artigianale, ci siamo riusciti, nessuno poteva pensare che orte il sottopasso venisse eliminato, ci siamo riusciti, nessuno poteva pensare che orte potevamo costruire un asilo di unito comunale, ci siamo riusciti, orte sorterranea, ci siamo riusciti, anche in quel momento erano difficoltà di ripetere soldi, ma con i giusti progetti e le giuste progettualità si riesce ad ottenere qualcosa che in altri comuni non ci riesce a farlo perché mancano proprio dei progetti veri e propri. Ecco quindi un po' il discorso che fai è non vendiamo fumo, non vendiamo sogni e vogliamo finire prima quello che è ancora in piedi e poi contemporaneamente far partire delle idee che devono essere supportate da finanziamenti accessibili e raggiungibili. Volevo farti una domanda che ho fatto un po' a tutti, orte come sappiamo tutti è divisa in quattro nuclei principali, ognuno di questi nuclei necessita di cose diverse, ovviamente non tutti hanno le stesse peculiarità. Un'idea su come intervenire, anche se ripeto tutto è prematuro, tutto è in fase ancora embrionale, però si vive ogni giorno la quotidianità, c'è un'urgenza a Ortescalo, c'è un'urgenza a Pedignano, c'è un'urgenza del Centro Storico, c'è un'urgenza a Caldare. Che cosa vi siete prefissi un po' per queste cose? Allora, anzitutto io considero non solo queste quattro realtà, ma le considero qualcuna in più. Abbiamo famigliele, abbiamo le grazie, quindi insomma il campo sportivo, ci sono diverse zone di orte che devono essere da questo punto di vista giustamente con realtà diverse. Noi facciamo quello che siamo bravi a fare, noi siamo bravi a fare una cosa, a incontrare le persone, a parlare con le persone nelle riunioni di quartiere che abbiamo sempre fatto in dieci anni, e ad avere una caratteristica secondo me che non tutti hanno Gianni, che è quella di saper dire alle persone, in base alle loro esigenze, sì lo posso fare, no non lo posso fare, e se non lo posso fare motivando perché non lo posso fare, e se lo posso fare come farlo. Lo scopo è proprio questo, i cittadini sono lontani dalla politica perché vedono, come dicevi tu prima, sentono parole, che poi rimangono lì, vedono personaggi che promettono tutto e contrario di tutto, noi no, noi abbiamo sempre parlato con le persone e detto chiaramente, in base alle loro esigenze, io ero con lui, pensa che scrivevo su un foglio tutte le cose che i cittadini chiedevano, beh in base a quello noi abbiamo detto questo sì, questo no, questo sì, questo no, spiegando i motivi, quindi ogni realtà è diversa, ma ogni realtà avrà, e di questo mi impegno personalmente, ma non c'è bisogno perché l'abbiamo fatto per tanti anni, ogni realtà avrà la nostra presenza sul territorio per capire con loro cosa si deve fare, come lo si deve fare, in che tempistiche farlo, e anche cosa non si può fare, perché non si può poi ovviamente fare tutto perché nessuno ha una bacchetta magica, ma sicuramente lo scopo è proprio quello di parlare con i singoli cittadini e con loro ragionare su quello che possiamo e quello che non possiamo. Avremo un po' la pagina politica invece di questa associazione, le altre forze politiche abbiamo saputo si sono incontrate, alcune hanno fatto già una costituente, chi proveniva dalla precedente realtà amministrativa come Orte Città Nuova continua il suo cammino, facendo delle azioni propositive come degli incontri. I dagliere che tipo di… insomma come si è mossa in questo momento, come si sta muovendo, quali sono i contatti avuti, quali sono le possibili, non dico alleanze, però le intese che ci possono essere, possono essere sviluppate e poi come vedete quello che sta accadendo in casa d'altri insomma. Allora sì, quello sta accadendo in casa d'altri ovviamente tutto sommato ci interessa ma in minima parte. Noi ci stiamo muovendo anzitutto avendo ritrovato l'entusiasmo di un gruppo di persone che ha voglia di rimettersi in gioco e questa è la prima cosa più importante. Non abbiamo né aperto le porte a nessuno ma neanche chiuso a nessuno. Sicuramente non andremo a fare accordi con personaggi o comunque sia gruppi politici con i quali da dieci anni a questa parte non abbiamo avuto come dire contatti o comunque sia avevamo linee guida diverse, quello sicuramente. Ma ovvio che il nostro dialogo è aperto a tutti coloro che vogliono riconoscersi in un progetto civico e quando dico civico dico realmente civico perché noi nel 99 abbiamo scelto di fare un gruppo veramente civico dove dentro c'è una realtà completamente diversa l'una dall'altra. Perché oggi è facile parlare di liste civiche poi camuffate da simboli politici di ero. Noi invece non abbiamo mai avuto quel simbolo politico, abbiamo sempre stato esclusivamente civici. Quindi parlare con chiunque voglia riconoscersi in questa realtà dei fatti e siamo disposti a dialogare con tutti ma sicuramente non faremo mai accordi con coloro e con gruppi politici che abbiamo per dieci anni avuto delle linee guida completamente diverse su come sviluppare e far crescere il nostro comune. Quello assolutamente no. Non è il nostro scopo fare il famoso contenitore dove tutti stanno dentro per… Una realtà come Orte che è abbastanza piccola rispetto ad altre realtà che ci sono presenta una frammentazione forse eccessiva di tante associazioni, tanti gruppi, ognuno vuole mettere il proprio contributo che da una parte è anche bello perché partecipare è sintomo di vitalità però forse c'è troppa frammentazione, questa è una domanda che ti faccio, ci sono i lati positivi o i lati negativi? La frammentazione secondo me, e qui parlo per un'idea assolutamente personale, è tipica del nostro comune a mio avviso, è tipica del nostro comune perché dobbiamo avere quattro squadre di calcio, due squadre di calcetto, dobbiamo avere la lotteria di Orte Scalo diversa da quella di Orte, diversa da quella di Perignano, diversa da quella di Caldare. Io sono con la banda da più di 30 anni e noi facciamo circa 21-22 processioni all'anno Orte, quindi per farti capire quello che è la realtà dei fatti di Orte, quindi la divisione è sempre stata Orte. Io su questo condivido pienamente il fatto che se da una parte c'è positività perché molte persone mettono in gioco, dall'altra parte è difficile capire ma perché se abbiamo degli elementi comuni, delle idee comuni non possiamo rincontrarci e parlarne? Perché ho sentito in queste settimane persone che sono sedute qui di orientamento politico e poi alla fine le proposte, le idee erano simili, erano molto vicine, allora mi chiedevo come mai questa eccessiva rappresentazione? Perché le idee fondamentalmente possono essere anche simili, secondo me la differenza sostanziale è come portare a termine queste idee e in che modo approcciarsi al territorio, perché è ovvio che se parliamo di sicurezza non è che tutti quanti abbiamo lo scopo comune è quello di portare a termine il discorso che i cittadini possano stare tranquilli nel proprio comune, però poi vedere in che modo tu vuoi approcciare quel problema, il discorso diverso è vedere come vuoi arrivare a quale priorità dare, perché a parole poi tutto quanto è semplice, ma in realtà dei fatti ve lo garantisco, chi ha amministrato come me il comune per 5 anni, poi non è così semplice stare lì e prendere le decisioni o comunque sia arrivare le decisioni, però noi siamo convinti che appunto perché l'abbiamo fatto siamo concreti rispetto all'altro, io ho paura che tutto il resto è tante chiacchiere, noi invece abbiamo fondamentalmente la solidità di dire noi quelle chiacchiere che gli altri vi raccontano, le abbiamo fatte, stanno sotto gli occhi di tutti, le avete toccate con mani, quindi conosciamo come portarle a termine, non sono solo chiacchiere tanto per dirle, quindi forse la differenza è proprio questa, che le chiacchiere sono tutte simili, ma dalla parte nostra c'è la concretezza di farle, dall'altro probabilmente è soltanto un questione di chiacchiere che poi quando li mette a tavolino per chiuderle, forse insomma si tirano indietro. Ecco nei comunicati che sono stati pubblicati dalle altre forze politiche, anche qui è stato molto sentito il tema della trasparenza, voi venite da un'amministrazione di lungo periodo in cui più volte il quadrifoglio è stato accusato sotto il punto di vista della trasparenza, che cosa c'è da dire su questo argomento? Ma guarda, su questo abbiamo fatto diverse battaglie anche in Consiglio Comunale, noi abbiamo pensato che la trasparenza secondo noi è fare le cose in base alle normative vigenti, questo è sempre un discorso di chiarezza con i cittadini che abbiamo avuto, io mi ricordo che la cosa che più ci accusavano era il discorso degli appalti, quindi di andare a affidamento diretto senza passare per gara pubblica quando la legge prevedeva andare a affidamento diretto. Rispondo come abbiamo risposto in Consiglio Comunale, se la legge a noi ci permette di andare a affidamento diretto non andiamo all'affidamento diretto, quindi per noi la trasparenza è seguire la legge, la legge dice che una cosa può essere fatta in affidamento diretto, non andiamo a affidamento diretto. Se l'affidamento diretto è la possibilità, perché questa scelta? Perché secondo me è la scelta A più logica, B più veloce e C perché dice la possibilità di far lavorare le persone che stanno nella nostra comunità, perché andare poi in questo caso, un momento specifico, a una cara all'appalto più larga potrebbe far sì che chi è orte, chi ha le possibilità di poter lavorare su delle strutture di orte potrebbe non... Qualcuno afferma che dare però sempre un affidamento diretto costa di più. No, non costa di più a conti fatti assolutamente, anzi bisogna ragionarlo nel lungo periodo, cioè nel senso è ovvio che se io ho la possibilità di dare un affidamento diretto a una ditta locale o anche la possibilità di parlare, di sapere chi è la persona che fa parte di questa ditta, di poter ragionare con lui, di capire insieme a lui quali sono le problematiche piuttosto che parlare con pseudo situazioni che poi svaniscono in nulla come spesso è successo. Quindi ripeto, la trasparenza per noi è fare le cose a norma di legge, quello che permette la legge di poterlo fare noi lo facciamo in modo molto tranquillo, trasparente e onesto. Quindi la trasparenza maggiore a nostro avviso è fare, rivedo le cose a norma di legge. Ecco, che cosa... siamo quasi in conclusione, mancano due minuti e mezzo, volevo dire sicuramente tutti i discorsi sono prematuri, siamo ancora a dicembre e quindi possono esserci diverse e ci saranno sicuramente diverse evoluzioni, però si sono sentite molte persone che si sono avvicinate a questa lista anche di grande esperienza qui nel territorio di Orte, me lo confermi? Sì, te lo confermo e forse è stato un motivo per il quale anche a me è tornata la voglia di rientrare a far parte di questo gruppo politico, di rimettermi un po' in gioco, perché quando tu vedi delle persone di cui ovviamente non faccio nomi e cognomi perché ci sarà modo di conoscerle, quando tu vedi persone che hai sempre stimato, che per te rappresentano un punto di riferimento Gianni, che oggi decidono di tornare a dare loro contributo, io credo che i ragazzi della mia età, perché mi ritengo nonostante ho 40 anni un ragazzo, debba dare un supporto, deve portare delle idee nuove perché ci sono delle persone veramente veramente in gamba che hanno scelto di tornare su una scena pubblica e dare loro contributo, persone ripeto anche molto 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 ostinabili, a meno per come la penso io e la pensiamo noi. Il mondo giovanile come vi rapportate nel mondo giovanile? Ci sono giovani che condividono il vostro progetto? Allora il mondo giovanile è un mondo secondo me molto molto particolare, perché è un mondo che fa politica oggi attraverso i social network e non più come mi hanno insegnato a me all'epoca di farlo all'interno delle sedi di partito di sezione e che ha un po' di distacco dalla politica. Però noi siamo convinti che portando avanti determinati progetti abbiamo già dei ragazzi che ci stanno sostenendo da questo punto di vista e lo nostro scopo è quello di far capire ai ragazzi che amministrare è bello, che poter dare un contributo per il proprio paese è bello e di far capire che dall'altra parte ci sono delle persone che non sono chiuse nelle loro idee, ma ci sono delle persone che sono disposte ad ascoltarli e anzi a prendere anche spunti, perché secondo me dai ragazzi possiamo prendere molto, perché il modo di fare politica è cambiato, le esigenze sono cambiate, quindi sono loro che ci dovrebbero anche supportare in questo e dare delle idee. Però ripeto, è un mondo molto 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 interessante e i ragazzi che abbiamo o che ci contornano oggi, che stanno vicini a noi, ci stanno pian piano facendo capire che è importante convoggi ma è importante ascoltarli e non è una cosa semplice ascoltarli, perché tante volte si fanno gli appelli ai ragazzi e poi rimangono lì, invece no, questi ragazzi che abbiamo intorno ci stanno facendo capire veramente delle cose che ci stanno anche cambiando un po' a noi. Grazie a Sergio Pescerolo e ovviamente incontri torna alla prossima settimana, grazie. 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 Grazie.